All we do is cutting water paper, water paper, the boy that make a hater wanna hate us, they hate us, can't take it when they see their money makers, we make a full lot of money, full lot of money Come sapete tutti, forse non lo sapete perché non vi ho mai detto, ma come adesso vi dico, non posso più lavare i piatti in casa, non posso più lavare i piatti in casa, mi si è rotta la lava stoviglie E dobbiamo lottare, dobbiamo lottare per vincere la lava stoviglie Se invece dovete fare il miglior tempo è un percorso dall'inizio alla fine, adesso poi capirete nel video, non possiamo resettare, ovvero cercate di essere più sinceri possibili e dobbiamo fare il miglior tempo, chi fa il miglior tempo vince una lava stoviglie Quindi abbiamo accettato, anzi ho accettato perché poi uscirà anche sul suo canale, ma oggi era qui a casa quindi mi fa accompagnare mentre ci provo Io faccio il buon Fabio Esatto, lui fa il buon Fabio che sta così, finito, così, tutto il tempo che mancano 47 milioni di chili E quindi oggi farò la sfida e ho accolto la sfida di Gabbo, dobbiamo fare, signori, il parkour, il mio canale si chiama Fra Parkour e vincerò io Su COD per l'appunto e cercando di battere i tempi di Gabbo di Squared che mi sono segnato appositamente, tente Vi lascio in descrizione la sfida di Gabbo, dovrebbe essere uscita anche l'ora di Ron ieri, solamente che non l'ho vista, quindi non so quanto tempo ha fatto, sicuramente avrà battuto tutti Ma vi lascio i link dei loro video qua sotto in descrizione, quindi andateli a vedere Partiamo col percorsi Corsa Libera, inizia la corsa tra 10 secondi Senza tagli Tutto, esatto, la cosa è questa, che tutto quanto deve essere fatto senza tagli, senza niente Quindi le parti morte dove non parliamo così mai, le metto velocizzate Vedete comunque il gameplay e i tentativi che farò perché morirò mille volte perché come sapete io sono una pippa sui videogiochi Grande! Alfa, Corsa Libera, vedete lo fa anche lui, ci sgranocchia i granocchi Non credo che siano granocchi Zitto, mi devo concentrare Ah, quindi non puoi parlare in questo video perché se parli poi è tutto un cazzo grande, hai già perso 15 minuti, eh, non te le senta LOL Hai già perso 15 minuti No, beh c'ho gli intratempi perché ho già fatto, cioè l'avevo già fatta di mio prima che uscisse il video di Gabbo Sono proprio stupido comunque Sì, tantissimo, e se riusciva a perdere mezzo secondo in un salto Come on, devi battere il tempo di Gabbo che è 2 e 16 Come on, come on, come on Ah sì, hai sbordato dentro tutto la figlia Non so, tu cosa stia dicendo È un commentario molto inutile Vai, nuota come Phelps Nuota come Phelps Ho scusato, ho scusato Partono mozzarella Mozzarellona Calcolate, dovresti prendere 8 secondi, no, 6 secondi Quindi devi recuperare altri 4 secondi del tuo miglior tempo Unoscibile O hai sbagliato d'altra parte 3 secondi 3 secondi però È troppo piano Ce l'ho fatta 4 secondi Meno 4, siamo su 2 e 18 allora adesso Ah, i di... Ah, che cazzo c'è? Niente, sì Attenzione Attenzione, Gabbo di Squared Stiamo arrivando Anzi, sta arrivando 3 secondi Stai passendo Stai passendo Non so cosa dire Come on Come on Devi fare 2 e 6 Non ce la farei mai Non ce la farei mai 6 secondi 6, 5 secondi Non ce la farei mai 3, 2, 1 No Non ce l'hai fatto Però avevo recuperato un casino Hai recuperato un bordello Ah, che se non sbagliavi il primo Eh, no Era quel mezzo secondo Ma preciso Hai fatto 2 e 6 Vaffanculo Vabbè però Vaffanculo Vaffanculo Vabbè quindi il primo ci ha battuto il capo Ha fatto 2 e 16 e 6 Probabilmente ci ha battuto anche Ron Sì, molto sicuramente Però non avrà fatto 3 secondi 3 secondi e 2 Quindi 2 e 17 e 100 È il mio tempo da battere Che è stato già battuto Vaffanculo Vabbè Record mondiale Recordissimo Sidewinter Che non ho mai fatto Bello, non c'ho nessun miglior Ma Gabbo l'aveva già provato? No, Gabbo no Gabbo Non lo so Non lo so Io Sidewinter proprio non so neanche cosa sia Quindi Non manco come se scriversi Ok, vai, si parte Si parte con Sidewinder Sidewinder Col 2, c'è difficile 8 Questo è l'ultimo Adesso che cazzo devi fare Oh, madonna Ce la puoi fare? Che cos'è? È acqua Ah, ok Oddio Deve andare super Let's go Let's go Però non sto andando male Ho detto Mi sai potete pulire Salta sopra, sai Per perdere meno tempo Si sborra, signori Si sborra Oddio, oddio Non c'ho alzato Si cammina e si sborra Oddio, che bucio Sbuccio Hai perso 4 secondi È bello Sicuramente batterai Ho fatto palo palo gol Oddio È perso No, dai Si poteva aggrappà No, si poteva aggrappatissimo No Come cazzo ha fatto A fare 2.45 È perché Se non ha sparato Sui Cosi Dai, è una presa per il culo È una presa per il culo Oh, no Ma poi facciamo tipo La classifica generale Ma vai, se è troppo basso Se non ci arriva Eh, ho capito Ma, cioè È difficile fare altro Difficile fare casi Mi sa che sei Parto più alto Dove cazzo stai andando? Guarda il mondo Dove stai andando? No, è difficile sto pezzo Ho detto Quello c'è troppo omosessuale Morto No, non ci arrivi Ci stai mettendo 8 minuti Ci stai mettendo 8 minuti Vai Così c'ho la corsa Olè C'ho fatta C'ho fatta Olè Olè Molto di aspettare Signori Con un minuto di ritardo Beh dai, io ho di 3 secondi Ah Ah Vabbè, vabbè Con solo un minuto di ritardo 5 errori Aia Aia male Senza tagli Video di 40 minuti Ciao ragazzi Sti cazzi We are the school Ma che ne sapete Merde Stai su YouTube A 3 giorni A merde A schifo A merde Pure questo ho mai fatto Cioè io poi Il bello è che io non li provo Cioè io non l'ho mai provati prima Regà Cioè Gabbo Ron Vedrete con Ron Che l'ha provati 74 volte Mortaci tua Ron Pure Gabba Ecco E Gabbo pure qualcuno ha provato Terzo coso 2.54 Vediamo se ha fatto qualche errore Ma non credo Zero errori Che cazzo è infetted È tu madre Dai c'è pure il culo È doppio Con l'arma Bello guarda Pistola manco c'è Dio No Ma che cazzo fai No io lo sapevo No Dai Dai Lol Olè Vaffanculo Mi aveva fatto così Ti sparò No No Dai ho preso 3 secondi No vabbè Vedi questo In questi casi Cioè E adesso Comodo E se cazzo Mi metterete Però Mi metterete Oddio Ma dai Già sto Miliardi di secondi Dopo Ah no Ma devo andare sopra È già ho perso Lol No dai È ho perso Dove vai Eh ormai Ripaccio così Olè Anche qui un minuto Vaffanculo Dai Che pippa storica sono Dai 3,44 Ma è una cifra Ci ha messo 2,50 Vabbè E poi c'è Blackout Che sarà la mappa Dove Gabbo ha fatto un tempo allucinante Perché pure Ron non l'ha battuto Cioè una roba del genere Che ha 2,37 È una cosa storica E io su Blackout Ci ho provato prima con loro E ho rotto il pad Il primo al mondo Ci ha messo 2 minuti Blackout La mappa della fine Della storia Delle fini Della figa Della figi Ok signori Questo è quello più difficile Ma una dritta Ah LOL Ma l'hai provato questo? È prima con te Ah sì Prima è vero Non lo provate prima Non fate niente Non sai quante volte è morto Ron Alla prima volta di questo? Eh 65 Ma davvero? Sì quindi Ecco perché Beastard Ci aveva messo 11 minuti Quindi ci metterai 11 minuti Lo sai? Vabbè sti cazzi Vaffanculo Io lo faccio tutto quanto Alla prima botta Vi faccio vedere Che non è solamente S forti Si può pure essere Un po' una pippa Eh Vaffanculo No Ma vai così Vaffanculo Sette errori Mannaggia dei lady E qua quindi ci posso passare No No mai Ah ecco infatti No abbiamo sfatato Perché prima non lo sapevamo Adesso È una delle cose più brutte Mamma mia Oh S'ho arrivato Io l'abbia mai visto S'ho arrivato Gabbo ha finito 10 secondi fa Ah ecco è questa quella Che dove Si No raga Stiamo qua 15 minuti No cioè Ti rendi conto Questa è impossibile Stiamo qua 15 minuti Spiegate questa Come cazzo si fa Alla prossima Alla prossima Grande, ce l'ho fatta anche senza farlo Pensa se non c'era il checkpoint adesso Vabbè ci ho messo solo quattro tentativi E' così complicato Vaffanculo, no dai, hai aprito per culo Ah beh il vetro Oh, oddio che bugio di culo Dai, non finisce più queste cose Dai, c'è solo tre minuti di ritardo Per fare concorrenza a Trinitalia WTF, chi se l'ha inventata questa cosa malata Un malato Sicuramente un malato Capito qua? Ah ti fa ta 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 No LOL Ma che cosa cazzo è? Ciao Sei bell'albero Sembra un albero di ganna Sembra un albero di ganna Sembra un mio tatuato Di ganja Di gampa Ma sali Non saliva 8 minuti Daffanculo E 53 secondi signori Battetelo Schifosi Vabbè però era la prima volta che lo facevo Vabbè ma spero che il video vi sia piaciuto A me no Perché a me non è piaciuto il video Però nel caso vi esorto a lasciare un like Anche per le risate E magari vi siete fatti o magari no Da Frax e Dredd è tutto Dal buon Mingo Buon Vofabio è tutto E niente Ci vediamo al prossimo video Ron sta a te No è stato già a te Quindi sarà a Zamp O a me O a lui Mancano le due Vi sfido E chiamo di battere 8 minuti E niente alla vastoviglie comunque Niente alla vastoviglie Vabbè Bella Ciao